Alla stampa italiana Perché oggi ho avuto un piccolo sclero personale Per una serie di ragioni Quindi voglio sapere voi come la state vivendo Pommeli, ciao, grazie mille Che è successo? Io in questi Vabbè, nell'ultimo periodo, come sapete Ho avuto modo di Ho avuto modo, o meglio Sono finito, per ragioni Traverse, ad occuparmi di fake news Perché non lo sapevo Non è una cosa Di cui in realtà Che avevo pianificato Non era il mio obiettivo della vita Però ecco, è un po' come chiedere al trono Di non incazzarsi con i freebooter Come fai? Non so, è così Che stanno cose che non si possono evitare E vabbè, comunque vi stavo dicendo Quindi vabbè, mio malgrado Dato che c'erano un sacco di notizie pericolose Che riguardavano anche il mio settore Che venivano diffuse Mi sono sentito in qualche modo Di rosicare, in sostanza Mi sono incazzato E beh, certo Però, effettivamente Mi hanno fatto Gli utenti Delle osservazioni Ed avevano ragione Ciao, come fosse Antani In pratica mi dicevano Ma scusa Ma se tu vedi le notizie Anche sulle stronzate Tu vedi queste notizie Un po' stupide Un po' scioccherelle Un po' sciocchine Che vengono pubblicate E vengono pubblicate male Vengono tipo Estrapolate dal contesto Vengono malinterpretate E quant'altro Ciao Sharky Shark E tu ti dici Se quelle notizie Vengono riportate male Figurati le notizie serie E uno Come cazzo fa a scendere? Capito? Diventa un bordello, no? Allora Ma mica tanto Allora ti faccio un esempio L'hai letta la notizia Quella là Dell'elefantessa Morta per via Dei pedardi Dell'ananas Infatti ho detto Quella è una L'ultima Esempio Di notizie Portate Riportata male Non è la notizia Che noi abbiamo letto Di persone cattive Che volevano uccidere Un elefante Che per di più E' rincinta Cioè è un po' diverso Allora Perché ti ho detto questa cosa? Perché io di recente Sono finito spesso Sui giornali E quello che ho visto E che Stai a flexare Stai maledetto No scherzo Sono pure contento Fatte pia per culo Mamma Comunque allora Io sono finito spesso Sui giornali Ehi ragazzi Io sono finito spesso Sui giornali Non hai capito Aspetta 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 Oh è scusa Hai amici Di un punto facile No no Però perché vi ho detto questo? Perché Nonostante io parlassi Col giornalista Facessi delle interviste Prendessero delle informazioni Da internet Da siti che li riportati Copiassero anche Semplicemente un video O Sbagliavano un sacco di cose Fino ad arrivare All'errore madornale Informazioni basilari Anche quando volevano fare Una bella cosa Come ad esempio Riportare il contenuto Di un video In cui facevo Non lo so Quello del virus Dove in cui Riportavo delle notizie Loro le riportavano male E il risultato Era sbagliato Era C'era qualcosa Che se tu leggi Barbascura ha detto quelle cose Faccia una figura di merda Ma male in che senso? Male che Viene stravolto il Il senso Non vengono messi I puntini sulle Praticamente è il gioco Del telefono senza fili Fatto male da due Esatto Lord of Pineapples Sarò su tutte le pizza del mondo Non ti permettere Pezzo di merda Ma nel senso che Semplificavano Semplificavano Prendevano Estrapolavano una frase Prendevano una cosa La frase più Benvenuto Più di effetto magari Per farlo più di effetto Riportare Mi ricorda un po' Quando ho fatto Quelle pillole di scienza brutta Io parlavo per 20 minuti Con loro al telefono Poi lo tagliavano Ed esempio una volta Mi hanno fatto dire Che i delfini stupi Ecco Che Il video che io avevo fatto Sottolineavo Che tu non puoi usare Quella parola per gli animali Che non ha senso Nel animale Che loro hanno questo Atteggiamento Che somigliano Però non c'entra un cazzo Ecco loro hanno tagliato Ed è uscito I delfini stupi Quindi Tremente Benvenuto E quindi niente Perché vi ho detto questa cosa Ora oggi Io ho pubblicato un video Su Tic e Toc Perché sto Ogni tanto Mi metto a fare Queste cose Perché mi sto divertendo C'è Tic e Toc Sì? Menchia Come sei Grande Faccio i balletti Con l'uccello di fuori Qui siamo boomer Faccio i balletti Con l'uccello di fuori Rumax Benvenuto No scherzi a parte Perché faccio dei video Molto brevi E Voglio vedere che succede Mi sto divertendo Comunque In sostanza A me mi dicono cosa I campioni Da voce mia Per fare video Sì Per fare quelli Di Death Note Sì mamma mia Io ci rimango male Però Bene No perché No male No male Nel senso che tu Guardi una cosa Che se tu che parli In altri Fai porca Ma che sta succedendo No Allora quelle cose Le trovo un pochino cringe Trovo cringe I balletti Sono cose che proprio Non riesco a capire Però Allora tutto TikTok Pure i balletti No i balletti Le Le cazzate Sono il core Di quel sito Ah? Quell'app Sono il core I balletti Sì sono il core È vero Però vabbè Io e Veroni Cartoon Abbiamo anche Delle pagine fan E infatti Sì ho visto Di quelle cose Sono La voce maschile Che sentite Che non è barba scura È Il trono del muori Che è oscurato Ciao a tutti Ciao Ti hai detto Che sta pure Salvini Su TikTok Eh vedi Io l'ho fatto per lui Così posso Bravo Ha spinto No comunque Scherzi a parte Vabbè faccio dei video Come quelli Più che altro Mi piace Perché io Facevo dei video Per Instagram E prima Li dovevo montare Invece con TikTok Te lo fa montare lui Direttamente Un'applicazione Per montaggi Da paura E c'è un casino Di filtri Quindi dai Ma me ricorda un po Vine Esatto Se tu lo usi Come Vine Secondo me È molto figo Usiamolo come Vine È molto figo Vabbè comunque in sostanza C'è anche Vabbè quando io ho aperto oggi TikTok C'erano sulla Sulla pagina iniziale Una serie di video Suggeriti No Dei più Influencer più Putenti Se era l'illetta La madre del trono Barboscura Maledetti panda Sempre Però non ho salutato Claudia Questo me lo segno Gigino Gigino Ti fa una dieta A base di carboidrati A base di zero carboidrati Zero carboidrati No allora E mi è uscito Questo video Ora ti voglio far vedere Una cosa Ve la faccio vedere Ah ci vede Dai dai Vediamo Ok Ve lo faccio vedere È un video del cazzo Della Ferragni Questa è la pagina Di TikTok Della Ferragni Ovviamente Tra le top influencer C'è Chissà quanto c'è Magina su TikTok Capirai Ah vabbè Ha voglia Guarda Questo ha pubblicato Ma non è 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 Visualizzazioni Noi ce le sogniamo In un'ora In un'ora Sì Lei può Allora sto video Ha fatto Un milione Di visualizzazioni Ed è Un video Del cazzo Vabbè No noi Non ce ne frega niente Di Chiara Ferragni Lo sto utilizzando Soltanto per esempio Per farti vedere Questo è il video Vieni amore Cavolo Vieni a salutarmi Pronto Io non sono fiera di te Mettilo dopo Mettilo quando sono già arrivato A sto video Amore ma vai fuori il culo No ma Fede Ma sei in serio Sei in serio Ma puoi dire una cosa del genere Guai a te se mi dici Qualsessi cosa Stai zitto Due Sì un po' Boris Corin Corin Ma vi spiego Perché ve lo sto mostrando Giuro che è un senso Sì 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 Minchia Lo fingo Sono viva ragazzi Questo è un video Che metteresti su Madonna che impressione Ciao Sono viva ragazzi Ve la consiglio Fa un po' impressione A lei ormai non gli emoziona più niente Cioè tanto l'importante che Sembrava che stava Anfilata la posta Mentre stava alla sua Che è un braccia concerto E beh insomma Sto dando Praticamente sì No ha detto Claudiano Io non lo capisco questo social Io l'avrei messo su Instagram E non su TikTok Però il problema è che TikTok Che è fatto Possiamo mettere su tutti e due Sì io lo faccio per tutti e due Però Mi sembra che Che vuoi sapere Che vuoi sapere TikTok non mi sembra Aderente alla realtà Questa era una cosa Aderente alla realtà Cioè lei ha fatto Ha fatto vedere esattamente Quello che ha fatto No no ma infatti C'è chi lo usa così Chi lo usa per vlog Chi lo usa per recensioni Come YouTube Solo che la differenza È che è frequentato al momento Più da ragazzi Ma sorella Ma se vai a vedere Ste distinzioni Lascio nel senso che Le distinzioni per me Tra social Sono solo Per fascia d'età Ma sì Ma sì Ok quella Under 18 E gli fa vedere Un video del genere Se tagliano Compresi quelli di Instagram Che è quelli giovani Fino ai 30 anni magari Gli lo fa vedere pure là Vabbè Cioè al fine Non è che c'è Sta sta gran differenza Tra un social e l'altro Ma bene Qual è la differenza Io obiettivamente L'ho interpretata così Questo social Cioè è un social In cui c'è Una Non lo so Mi dà la possibilità Di fare delle piccole storie Come quelle che facevo Su Instagram Però montate meglio No E quindi ci faccio Un piccolo video corto Che posso montare In due secondi a casa Senza che Apro il computer Ma tu infatti Lo usi in maniera diversa Tu non pubblichi C'è chi lo usa anche così La stessa cosa su Instagram E su TikTok Diciamo che è uno YouTube mini Esatto Per clip corte Vabbè però alla fine A me non me ne frega niente Alla fine là Ce ne sono altre persone A me insomma Il discorso è E soltanto Cioè le persone Che stanno su TikTok Non sono dei fantasmi Sono delle persone Quelle persone Quel milione di persone Che ha visto il video Di Chiara Ferragni E un milione di persone Che ha visto il video Di Chiara Ferragni Ma TikTok è uno dei soliti Che papà maggiore Ora come ora Eh ora come va a parlare Adesso si Ma anche perché c'è stato Uno spostamento di pubblici Comunque Tutti quelli Che erano su YouTube Che fattura di più Nella nostra età Ciao intumato Facebook della nostra età Ma Facebook ormai Su Instagram E su TikTok Perché comunque Ormai la gente Magari sono arrivati su Facebook Sì 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 Scusa Laura D'ho parlato Non me ne ero accorto Che stai a parla Scusa D'ho parlato sopra Scusa Laura Però volevo di solo Che Facebook Ecco esatto È solo per i gruppi Secondo me Ormai regge Solo grazie ai gruppi No vabbè Facebook Sì Se non fosse per il gruppo Per i gruppi Che seguo Eventualmente testate Giornalistiche Che comunque Vi ripeto Dico per i giovani Dico per i giovani Magari i vecchi ancora No vabbè Per persone più Attempate Diciamo che ancora Il social migliore Vabbè comunque Qual è il discorso Il discorso è Una cazzata Questo che avete visto È un video Una mezza cazzata Posso fare un annuncio Ciao benvenuto Non era Non volevo Entrare Nel dettaglio Su Perché TikTok Esiste Insomma io inizialmente Vedevo i video Di gente che ballava E pensavo fosse una cagata Poi ho visto che c'è anche Chi pubblica cose diverse Ho detto vabbè Allora forse è carino Però al di fuori di questo Redazione flop gear Benvenuto Il problema è questo Questo video Che abbiamo visto adesso noi Di cui comunque Non frega niente a nessuno Cioè a me è capitato L'ho visto un secondo E sono andato davanti No Non frega assolutamente niente a nessuno È diventato Un articolo È discutibile Del fatto quotidiano Ah sì Ok Ciao Anon Benvenuto Allora il fatto quotidiano Ci ha fatto questo articolo Mo ve lo faccio vedere Mo perché ve lo sto riportando Guarda Questo è L'articolo Che ci ha fatto sopra Che già tu dici Ma chi se ne frega Di base Per di più L'articolo si chiama Finché morte non ci separi Ma vaffanculo Scoppia la lite Tra Fedez e Chiara Ferragni Influencer si lanciano il vuoto da sola Jorek Bileson Ma quale Tanta cielo Ma chi è l'autore Chi è l'autore Chi è l'autore Vabbè ma i giornali Così almeno La prossima Lo so Non lo so Il giornale Non è di La redazione Manca il firmato Andiamo bene No 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 Infatti c'è scritto DFQ Quindi fatto quotidiano Quindi la redazione Deve essere L'autore interna Allora io già dico No Non sembra una cosa così particolare Perché è dall'alba dei tempi Da quando forse sono nati i giornali Che più che una notizia Devi dare una sensazione Devi creare O fare gossip Perché ormai Quando leggi qualcosa Dici ma sarà vero O me l'hanno un attimo ritoccato Mi sa Asino blu dal tonico Benvenuto Vabbè E questo è il discorso Che stavo riportando Al di fuori del social Bello brutto Chi se ne frega Allora Era un video del cazzo Già non ce ne frega Già uno di base Dice vabbè Ma chi se ne frega Che Lei si sta lanciando Su tiktok Vabbè Sceme laia Gli è benvenuto Nel senso che Il fan di Chiara Ferragni Vede Lei sta a fare questo adesso Perché gli vuole bene A Ferragni Un po' come a noi Che i fan Ci dicono le cose Noi fammo vedere Che stiamo a fare No Ciao pirata random Capito il toyotino Sì 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 Lo capisco Però ecco il discorso Però che ci fai un articolo Secondo me Ci fanno un articolo Perché la Ferragni Sul web È una di quelle Che smove più numeri Quindi se tu fai un articolo Che ho scritto Cara Ferragni I grandi numeri Dicono che qualcuno Arriverà a leggere Sta cagata Tutto qua Secondo me È proprio solo questo Scusate Salutiamo Cristina Scabbia ufficiale Ciao Cristina Ciao Cristina Ciao Te lo fanno per questo Ma ti do ragione Però vabbè Resta il fatto Che già di base Capito Il fatto che tu faccia Un articolo Su Un video di Tik Tok È Aberra Perché È un po' come se io Faccio il video Una storia In cui sto Accarezzando il mio gatto Ma per di più Tu la riporti Barbascura picchia il gatto Ma guarda Più certo Magari tu giochi col gatto Che ti dà un graffio E il giornale È Aggredito barbaramente Da un animale selvatico Da un animale di casa Perché l'ha fatto In troscena Se vent'anni fa Avessero Avessero parlato così Dei giornali Cioè non ci avremmo mai creduto È veramente Sono i clickbait Dieci anni dopo Sì Sì No Ebbè Arrivano sempre dopo Lo sai Che tristezza Però capì È anche peggio Perché qua vai passare Se tu leggi l'articolo Perché voi Mi hanno litigato Perché ha detto La battuta Il romantico Weekend di relax Sulle sponde del Lago Maggiore Di Chiara Ferrani e Fedez È stato movimentato Da un botta e risposta Al vetriolo Tutto preso Da Tra l'altro è stato montato Quel biglietto Però capì C'è a domanda offerta È stato montato C'è gente che lo legge Eh lo so È stato montato In modo tale che Però capito È questo il discorso Se tu leggi una notizia del genere Dal fatto quotidiano E tu Leggi una cosa del genere Che è stata manipolata È stata È che già E perché devi manipolare Un'informazione del genere Boh Sorwan benvenuto Clickbait Poi come fai tu Utente Affidarti Quando tu mi dai Delle informazioni Che sono di altra natura Cioè io non posso Perché tu Utente diciamo Un po' smaliziato Ma questo ci diventi da solo Continui a cercare Se una notizia È vero o falsa Capito Ma lo so che tu dici Che non lo fanno tutti Però Non lo fa nessuno Non lo fa nessuno Ma non è vero Guarda Non la maggior parte In questo paese magari Ma io ti faccio un esempio Nel cercare ogni volta Se una notizia sia falsa o meno Sono tipo triste Allora io di base Nessuno lo fa Io ti faccio un esempio Io ho Non succedereva Quando c'era la carta stampata Cioè adesso con i social Perché tanto è facile Scrivi 4 boiate E la Vabbè Questa è carta stampata In teoria Lascia beh Il fatto quotidiano Non so se stampi un giorno Che dovresti finire Stampare un giornale Per sta boiata Ciao panace Eh sì Lo so Però ho capito Il discorso è Io ti faccio un esempio Io ogni settimana Faccio la rassegna stampa A cazzo di cane Prendo le mie notizie Ma io posso verificare Tutte le notizie Allora io alla fine Faccio una carrellata Ma sai quante volte Poi ho dovuto Fare una storia Dicendo raga Questa notizia E quest'altra notizia Era una cagata Cioè ma io Cioè ma puoi prenderti Le notizie Ma perché stanno disperati Tu non ti rendi conto De quanto ormai Vendono poco I giornali Ma voi avete idea Stanno a capolinea Avete idea Di soldi che c'è Grazie alle pubblicità Dietro i siti internet Dietro i network Pochi Pochi No Sono tanti Sono tanti Ma non so più Come una volta Non come una volta Ma credimi Che guarda che sono tanti E te lo dico Perché ci lavoro Nel senso Sì ma i giornali Campano grazie ai sordi pubblici Tu mi insegni No 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 Io parlo Io parlo dei siti Parlo dei siti Che I siti Ok Magari leggermente Diciamo Modificate Però so pochi Rispetto Ma è per questo Che mo si mettono a fare Tutti gli abbonamenti Ci hanno fatto caso Che continua a legge Paga 4 dollari Perché stiamo Una merda Perché una volta Vendevano 100 200 mila copie al mese Per ditte il Corriere della Sera Adesso se vai a vedere Vende un terzo Nessuno si informa No ma è vero Hai capito Hai capito Anche di informazione Però io parlo di quelli online Che poi alla fine La campagna che hanno fatto Di recente Proprio al Parlamento Europeo Era per far Non far comparire i titoli Sul Google Perché altrimenti Non schiacciavano Le persone non schiacciavano Sull'articolo E non andavano Cioè leggevano Sotanto i titoli Da Google Ma infatti L'articolo 11 È stato fatto Infatti anche un po' Pepparar culo a questi Sì sì ma è stato Principalmente per questo Kai Rickman Dice I clickbait Permettono a molti giornali Di sopravvivere Io ormai leggo Di questi giornali Di queste lingue Per capire Se davvero Però il discorso E vabbè Il clickbait A me fa schifo Come utente Perché ovviamente Dopo una volta Che io vedo Che tu hai fatto clickbait Smetto di seguirti Come giornale è diverso Perché mi continua A comparire Sui social La schermata Continua a comparirti Però ecco Ti faccio un esempio Non sai qual è il dramma De sto paese È che noi siamo relativamente Giovani capito Eh sì Se rendi conto In sto paese Quindi noi lo sappiamo Ma Peppu Perché cazzo Ne sanno dei clickbait Oddio guarda Sarà vero Se lo dice Il giornale Cioè fine Fine Non è che stanno Tanto a pensare Quelli hanno fatto La guerra Magari Mi frega Lo so Ma non solo il giornale Fil Ma anche banalmente Anche banalmente Facebook L'ho letto in internet Esatto So più di noi So più di noi Ormai So più No sempre Per ora Per ora Però questo è un paese De vecchie Come il Giappone Siamo molto simili A il Giappone Su delle cose In altre no Ma siamo un paese De boomer Cioè Non è cattiveria Quindi come fai A insegnare Le prossime generazioni Sapranno discernere Quelle educate Da Breaking Italy O da te Barbascura Per dire Da me Ma adesso Ma sì Ma sì O da noi Nel nostro piccolo Stavi dicendo qualcosa Ma non questi Non questi Devi solo essere rassegnato E' un discorso troppo lungo Vabbè Vabbè Voi fate come va Però vabbè Io ho detto anche questa cosa Per un'altra ragione Di recente Capito C'è stato il discorso Della idrossiclorochina Che Quale Era un farmaco Antimalarico Utilizzato per Ad esempio Per combattere il coronavirus Non hanno avuto il tempo Di testarlo C'è stato chi ha urlato Non funziona C'è stato chi ha urlato Funziona sicuramente Al cento per cento Hanno riportato Tanti falsi Quant'altro C'è gente che fa la battaglia Dicendo che ci l'hanno nascosto Eccetera eccetera E quindi un sacco di danni Perché poi come è successo Con altri farmaci in Italia Spingeranno Hanno spinto Pensate cosa è successo Con l'Avigan Che hanno visto un video Su Facebook Il farmaco Il produttore Ha detto Guardate che ragazzi Non sappiamo se funziona E quanto bene Non funziona Walking benvenuto E noi abbiamo speso soldi Per testarlo Cioè Il dramma ancora peggio È che ci stanno pure i politici Che spingono ste cose Certo Perché i politici Ma con la malafede pura Ma perché lo sanno benissimo E a me la cosa che fa La tristezza E mi fa lo sconforto È che la gente È talmente rincogionita Mi dispiace Che non si accorge Quando uno Veramente in malafede Difende l'indifendibile O butta le cose in cacciara Tanto per La gente non se ne accorge Se non te ne accorgi Ti meriti Sto per dire una cosa forte La povertà Ma te la meriti Perché No ma non me ne frega un cazzo Perché veramente Perché se veramente Si è fatto così E cerchi Pensi che sia tutto semplice Tapico Gente Puraccia Pari tua Allora vaffanculo Capito Io la penso Vabbè dai ci sta Però ecco Vabbè Ci tenevo a dire questa cosa O comunque farci questo discorso Perché oggi Mi è impartito il cervello Sappiate che noi Da gennaio Abbiamo sconfitto il cancro Tipo una ventina di volte Già stando ai giornali Abbiamo trovato Cura a qualsiasi cosa Hai capito Ed è un problema Una certa ce crede Adesso in particolare E te manda pure affanculo Esatto Adesso in particolare Che noi abbiamo Questa situazione di emergenza È un vero problema E se i giornali Continuano a pubblicare Se notizie del cazzo Oppure quando la questione Non è per niente urgente Non è per niente seria Come Chiara Ferrani Che si lancia E che non ha litigato con Fed Sfigurati come faccio A darti retta Quando tu mi pubblichi La notizia è che hanno trovato Una cura o quant'altro Ma io la gente che dico Che se merita È gente pure Che tu conosci bene Capito chi te voglio dire Certo Che quelli ci galoppano Perché tanto Siccome vale tutto Vale pure sta gente Che se Una volta Se nascondevano Come I Destra Estrema Una volta Se nascondevano Adesso Cioè stanno Tutta a puttane Quindi È ovvio che va a puttane Pure la stampa E cerca solamente De fa due spicci Che gli è frica De fa veramente L'informazione No Eh va bene Posso dire che a volte Darei Quindi titoli Clickbait Ciao Red Panda Stream Benvenuto Darei proprio anche Un premio Perché a volte ci vuole Una fantasia Per prendere una notizia Completamente rivoltarla Complimenti perché Anche la creatività Non manca Hanno studiato Sul serio Come fai da Io ti dico B E tu fai tutto il giro Arrivi a Z Anche per quello Lo ci vuole Vabbè Oggi ho scelerato Con dei contatti miei Perché continuavano A pubblicare Ah tra l'altro Stavano Incazzandosi Con un immunodepresso Che ha la sclerosi Multiple E diceva quindi Ragazzi Attenzione Fatemi attenzione Perlomeno Fregatevi di me O uno dei commenti Era del tipo Vabbè ma abbiamo La idrossiclorochina Che funziona E vabbè E questi si sentono Legittimati Da quelli che ti dico Pure dai politici Che dicono Sì sì Ma che davvero Guarda Trump Oppure cazzo Eh vabbè Quelli che in America Si sono mettati Disinfettanti Ebbè Ma quelli Solo meritano Sì Ma come cazzo È possibile Ok ma Tu lo dici Io lo sapevo Appena ha detto Qualcuno Statisticamente lo farà Perché ha detto Il presidente Due giorni dopo Eh sì Ma vaffanculo Ma quelli Ma non gli sembra Manco fa una colpa Perché quelli Vengono dai tempi Da zappa Non c'era Manca la tv Gli fa vedere Un fotomontaggio Un alieno Quelli ci credono pure Ma perché non è Che si mettano A pensare Photoshop Quelli vedono Una cosa è così Tu devi Mettere veramente Nei panni Da gente Che non si rende conto De come cazzo È evoluto il mondo Ma anche solo In vent'anni Vabbè In molte zone Rurali I politici Lo sanno E' avanti Quindi Il fatto che succede Anche in zone Magari Quelli li puoi anche Scusare Tra virgolette Però Partire la musichetta La gap head Esatto Allora ragazzi Dato che ci stanno Scrivendo tantissimi In chat Ma il film Il film Quando il film Allora io direi Che possiamo iniziare Con la visione del film Questa è una chiacchierata Giusto così Per scaldarci Per essere un pochino No Dai